Seconda parte della dici settesima lezione dell'insegnamento di analisi 3. Abbiamo definito la trasformata di Fourier di una funzione L1. Osserviamo che se andiamo a prendere il modulo della trasformata, cioè il modulo di questo integrale, il modulo di un integrale è sempre minore dell'integrale del modulo. Il modulo dell'integrando, abbiamo detto, si coincide con il modulo della F, perché la parte esponenziale dell'esponente immaginario ha modulo 1. E quindi ecco che otteniamo immediatamente dalla definizione che il modulo della trasformata di Fourier, in qualsiasi punto, è sempre minore dell'integrale del modulo della F, ovvero il sup del modulo della trasformata di Fourier è sempre minore della norma L1 della F di F. Quindi abbiamo che la norma L infinito della trasformata di Fourier, che la chiamiamo con questa lettera F corsiva, la norma L infinito della trasformata di Fourier è sempre dominata dalla norma L1 della F. Questo per qualsiasi funzione. inoltre, la definizione di trasformata di Fourier si vede subito che è un'operazione lineare, perché per via della linearità dell'integrale, se facciamo la trasformata di una somma, otteniamo la somma delle trasformate. Se facciamo la trasformata di una funzione moltiplicata per una costante, otteniamo la costante moltiplicata per la trasformata della funzione. La costante riesce fuori dall'integrale senza problemi. Quindi otteniamo, la trasformata di Fourier definisce un operatore lineare che prende funzioni di L1 e le mappa in funzioni limitate di L infinito. e questa disuguaglianza fra le norme ci dice che come la norma operatoriale della trasformata di Fourier è sicuramente minore o uguale di 1. Ora però, dall'esempio che abbiamo calcolato poco fa della trasformata di Fourier del segnale rettangolare, abbiamo visto che il segnale rettangolare ha come trasformata valore della funzione seno cardinale e quindi la norma L infinito della trasformata del segnale rettangolare coinciderà con la norma L infinito della funzione seno cardinale. La funzione seno cardinale ha un suo massimo nell'origine, x è 0 e il valore massimo che raggiunge è 1. Il seno di x fratto x quando x tende a 0 tende a 1. E quindi abbiamo che il rapporto fra la trasformata di Fourier del segnale rettangolare misurati nell'infinito e la norma L1 del segnale rettangolare questo rapporto è esattamente 1 ma la norma operatoriale è il sup di tutti i possibili rapporti quindi la norma operatoriale sarà maggiore o uguale di questo 1 ma era anche minore o uguale di 1 e quindi otteniamo esattamente come operatore da L1 in infinito la trasformata di Fourier a norma 1 e le trasformate di Fourier di funzioni L1 non solo sono funzioni limitate quindi nell'infinito ma risultano anche essere abbastanza regolari in particolare sono sempre funzioni continue sempre infinitesime all'infinito vediamo un po' di dimostrare queste affermazioni ci serviamo prima di un piccolo lema di servizio siccome dobbiamo lavorare con differenze di valori di armoniche elementari se noi andiamo a fare e alla i alfa meno e alla i beta questa differenza cerchiamo di stimarla in qualche modo in valore in modulo se ne facciamo il modulo al quadrato cosa otteniamo? otteniamo il modulo al quadrato del primo termine e alfa modulo 1 più il modulo al quadrato del secondo termine anche questo modulo 1 quindi 1 più 1 sono 2 meno 3 volte la parte reale di e alla i alfa per il coniugato di e alla i beta quindi e alla i alfa meno beta parte reale è il coseno di alfa meno beta e quindi questa differenza in modulo al quadrato è 2 per 1 meno cos alfa meno beta 1 meno cos alfa è 2 volte 1 meno coseno di un angolo è 2 volte il seno di quell'angolo al quadrato il seno di quell'angolo mezzi al quadrato queste sono un po' di identità trigonometriche e quindi otteniamo che questo modulo al quadrato è 4 volte il seno di alfa meno beta mezzi al quadrato andando a prendere radici quadrate troviamo 2 volte seno valore assoluto del seno di alfa meno beta mezzi ma il seno di un angolo è sempre minore dell'angolo ed è anche minore di 1 quindi il valore assoluto del seno di un angolo è sempre minore del valore assoluto dell'angolo e anche del minimo fra il valore assoluto dell'angolo e u quindi andandolo a sostituire nel nostro caso qui avremo 2 volte ea lei alfa meno ea lei beta in valore assoluto modulo e minore di due volte il modulo del seno di alfa meno beta mezzi che a sua volta sarà minore del minimo fra alfa meno beta mezzi e 1 moltiplicato per 2 quindi otteniamo il minimo di alfa meno beta in valore assoluto e 2 questo è un lema che potete verificare con calma anche voi andiamo a utilizzare questo lemma per andare a dimostrare la continuità della trasformata di Fourier andiamo a prendere la trasformata di Fourier in un punto xi e in un punto spostato xi più una quantità eta vogliamo far vedere che quando eta tende a zero questa quantità qua questa differenza tende a zero non solo faremo vedere che è continua ma faremo vedere che questa funzione è uniformemente continua quindi questa differenza tende a zero in modo uniforme rispetto a xi qualsiasi xi la velocità con cui tende a zero è uniforme quando eta tende a zero andando a sostituire agli f cappuccio la definizione per gli integrali otteniamo due integrali di f moltiplicata per la differenza di due valori armonici elementari manca un segno, facciamo un segno sbagliato quindi se andiamo a stimare questa differenza in modulo abbiamo che il modulo della differenza sarà minore dell'integrale del modulo della f e il modulo della differenza di questi due esponenziali applichiamo il lemma, al posto di alfa mettiamo xi più eta al posto di beta, scusa, al posto di alfa mettiamo xi più eta per x al posto di beta mettiamo xi per x alfa meno beta sarà xi x più eta x meno xi x quindi rimane eta x vedete che sparisce la xi quindi qualsiasi cosa otterremo sarà uniforme rispetto a xi ora quindi otteniamo che qualsiasi sia xi f cappuccio di xi più eta meno f di xi in modulo si stima con l'integrale di f di x per il minimo di eta x o 2 ora quando eta tende a 0 sicuramente eta x tende a 0 quindi diventerà definitivamente più piccolo di 2 quindi questo minimo per eta sufficientemente piccolo coincide con eta x quando eta x tende a 0 questo minimo tende a 0 puntualmente per qualsiasi x la convergenza puntuale non è sufficiente per avere una convergenza dell'integrale vogliamo avere una convergenza dominata ma a questo punto usiamo allora il fatto che questo minimo è comunque minore di 2 quindi l'integrando è minore di 2 f di x siccome la f è supposta in l1 2 f di x è una funzione integrabile non dipende da eta e quindi possiamo applicare il teorema della convergenza dominata di Lebeg e quindi quando eta tende a 0 questa integrale tende a 0 quindi vuol dire che questo sup rispetto a xi di f capuccio di xi più eta meno f capuccio di xi nel limite per eta che tende a 0 questa cosa qui che è dominata da questa integrale che tende a 0 tenderà a 0 e questo è esattamente equivalente al concetto di continuità uniforme per ogni epsilon positivo questa differenza può essere resa più piccola di epsilon prendendo eta sufficientemente piccola e questo indipendentemente da xi quindi le trasformate di furie di funzioni L1 sono sempre funzioni uniformemente continue non solo ma all'infinito abbiamo detto sono infinitesime e questo risultato che va sotto il nome del lemma di Riemann-Lebeg è un lemma di una certa importanza vediamo di dimostrarlo l'importanza più che per il risultato che ha una sua rilevanza è interessante anche per la tecnica di dimostrazione l'idea in qualche modo è di dimostrare prima il lemma per funzioni regolari cioè per funzioni per esempio di classi C1 a supporto compatto che sappiamo essere dense in L1 e poi procedere per densità per ottenere il risultato per tutto lo spazio e quando abbiamo funzioni G regolari in qualche modo vogliamo sfruttare la regolarità di G quindi sfruttare il fatto che anche le derivate di G sono ben definite e sono funzioni continue a supporto compatto per far saltare fuori la derivata ecco qui il trucchetto è il fatto che quando si vanno a derivare degli esponenziali all'esponente immaginario del tipo e alla i e alla meno x i x quando andiamo a derivarlo rispetto alla x la derivata mi dà un fattore meno x i quindi derivata rispetto a x di e alla meno x i x sarebbe meno x i e alla meno x i x portiamo il fattore meno x i dalla parte della derivata quindi dividiamo per questo per meno x i e troviamo che la nostra armonica elementare si può scrivere come questo fattore che contiene un termine del tipo 1 su x i per la derivata di x per ancora della stessa armonica ecco la cosa interessante è che questo fattore 1 su x i tende a 0 all'infinito quindi ecco in qualche modo questa esponenziale qui che ha sempre modulo 1 lo possiamo vedere come qualcosa che tende a 0 all'infinito per la derivata di qualcos'altro che ha modulo 1 ecco questa derivata qui siccome nella definizione di trasformata questa funzione esponenziale è sempre accompagnata dalla f nell'integrale ecco integrando per parte vogliamo spostare questa derivata dal fattore esponenziale alla funzione di cui che stiamo trasformando quindi ecco facciamo proprio questa integrazione per parti abbiamo che la possiamo magari fare i calcoli a mano abbiamo la trasformata dalla funzione g che è definita come l'integrale di g di x per e alla meno i xi x in dx l'integrale è sempre tutto è da meno infinito a più infinito ovviamente quando abbiamo un integrale da meno infinito o più infinito se dobbiamo fare integrazione per parti dobbiamo tenere conto dei termini di bordo la nostra funzione g abbiamo detto la stiamo supponendo di classe c1 a supporto compatto in r e quindi questo integrale qui tutto sommato lo possiamo pensare come un integrale su un intervallo da a a b che contiene il supporto cioè quindi supponiamo che il supporto di g sia contenuto in intervallo a b quindi abbiamo l'integrale da a b di g di x per e poi dicevamo questo fattore esponenziale lo possiamo pensare come la derivata d è la meno x x derivata rispetto a x moltiplicata per meno 1 su x quando deriviamo questo meno 1 su x diviso per questo mi lascia esattamente il fattore esponenziale quindi troviamo intanto questo meno 1 su x non dipende da x lo portiamo fuori meno 1 su x abbiamo l'integrale da a a b abbiamo la derivata su questo fattore esponenziale integrando per parte la derivata la facciamo cadere sulla g quindi però dobbiamo tenere conto anche dei termini di bordo quindi avremo la funzione g di x che è la meno x x i termini di bordo vanno calcolati per x che varia da a a b meno l'integrale da a a b la derivata si scarica sulla g quindi g' di x per e alla meno x x in dx ora se il supporto di g è contenuto in a b beh allora g di a e g di b saranno nulli perché siamo agli estremi del supporto e quindi cosa vuol dire vuol dire che tutto il contributo dei termini di bordo è nullo quindi sparisce rimane meno per meno fa più rimane 1 su x integrale di g' di x per e alla meno x in dx l'integrale va da a b ma ricordiamoci che fuori dall'intervallo a b la g' è identicamente nulla perché la g è identicamente nulla quindi possiamo benissimo ritornare a tutto r e questa non è altro che la trasformata di Fourier della derivata di g quindi abbiamo 1 su x g' trasformata nel punto x e quindi cosa troviamo? troviamo che il modulo di g e cappuccio di x è minore di 1 sul modulo di x per g' cappuccio la trasformata di g' ma la trasformata è sempre dominante dalla norma l1 quindi abbiamo 1 su x per la norma di g' in l1 ora quando xi tende all'infinito questa quantità qui tende a 0 per xi che tende a più o meno infinito e quindi è verificato il lemma ecco verificato il lemma di Riemann-Lebeddi però sotto l'ipotesi dicevamo di funzioni irregolari a supporto compatto ma noi sappiamo che le funzioni irregolari a supporto compatto sono dense in l1 quindi adesso se andiamo a prendere una funzione f di l1 sappiamo che fissato un qualsiasi epsilon positivo esisterà una funzione g di classe almeno c1 a supporto compatto che differisce in norma l1 meno diciamo di epsilon medio poi il modulo della differenza tra le trasformate di f e di g la differenza delle trasformate per linearità non è altro che la trasformata della differenza delle due funzioni e quindi si stima con la norma l1 della differenza delle due funzioni che è piccola e minore di epsilon medio e quindi modulo di f cappuccio di xi disuguaglianza triangolare sarà minore del modulo della differenza delle due trasformate più la trasformata della g ora la differenza delle due trasformate è minore della differenza delle norme l1 la norma l1 della differenza che è a sua volta per come abbiamo scelto la g è minore di epsilon medio mentre invece il g cappuccio lo stimiamo in questo modo qua se la xi la prendiamo sufficientemente grande per esempio maggiore di 2 su epsilon per la norma di g di g prima in l1 andandola a mettere qua dentro il suo reciproco sarà minore di epsilon mezzi fratto norme di g prima quindi questa quantità qui risulterà essere minore di epsilon mezzi epsilon mezzi più epsilon mezzi mi danno l'epsilon quindi per ogni epsilon positivo se la xi è sufficientemente grande grande quanto maggiore di questa quantità che dipende da una g che abbiamo scelto in funzione di epsilon quindi alla fine questa xi è maggiore di una certa quantità che dipende solo da epsilon quando xi è sufficientemente grande allora il modulo di f di xi f cappuccio di xi è minore di epsilon questo non è altro che la definizione del limite di f cappuccio di xi del limite che tende a zero quando la xi tende a infinito più o meno